C'è un lavoro importante da fare, non mi spaventa perché ho avuto la fortuna di sviluppare anticorpi sotto questo aspetto perché ad Ascoli appena arrivato ho trovato una situazione comunque complicata. Qui la troviamo complicata ma di certo e lo dico con forza non per demerito dei tanti professionisti o delle tante persone che hanno lavorato dentro il terro ma perché c'erano delle difficoltà magari oggettive ad investire, a poter portare avanti certi discorsi che hanno rallentato questo processo di crescita che adesso farlo ripartire diventa difficile perché cercare calciatori bravi in prima squadra significa avere occhio, avere conoscenze, avere rapporti ma avere anche delle consistenti possibilità economiche. Invece cercare un ragazzo di settore giovanile a 14-15 anni quando ormai i migliori sono già tutti sistemati nelle migliori squadre diventa altresì difficile quindi è un discorso che va ripreso soprattutto con i più giovani, con i più piccoli. Se dovessi dare un'età così ma in modo molto indicativo quindi prendetela nel modo giusto dovremmo parlare dei 14 anni, dei 13 anni che biologicamente potrebbero arrivare ai 18-19 anni soltanto fra 4-5 anni. Questo non significa che nel frattempo non attingeremo a tutte le mie conoscenze, a tutte le mie esperienze per andare alla ricerca, a scovare quel ragazzo che magari presenta un attimo di ritardo che non ha avuto l'opportunità di entrare in una società di prima fascia e andiamo a pescarlo noi recuperando con la formazione e con i formatori la cui squadra dovrò ancora completare e io credo che possiamo accorciarli queste idee. In fine uomini di fiducia è arrivata una persona a livello organizzativo, ripeto, chiamiamolo un manager giovane, molto giovane, che si occuperà tutto tondo della parte organizzativa che è Nicolo Civita, un avvocato, sta seguendo master di diritto sportivo, mi segue i rapporti anche con le società per quanto riguarda la definizione di certi accordi, segue molte cose, ma a livello tecnico per il momento sono venuti con me Marco Stella e Paolo Malandre, quindi quello che sarà l'allenatore della squadra Berretti e quello che sarà il preparatore attretico della squadra Berretti. Io credo che ogni imprenditore che investe sul settore giovanile lo fa perché come cuore sente anche a livello sociale un dovere morale nei confronti della città e nei confronti della propria voglia di lavorare sui giovani però vuole avere anche dei ritorni e perché questi ritorni arrivino occorre che arrivino in prima squadra e occorre che la prima squadra si spera prima possibile perché qui scaramanticamente sappiamo che potranno volerci 20 anni come 6 mesi e torni in Serie B perché in quel caso tutto diventerebbe più facile per tutti.